Fonseca, ogni volta che un centrocampista della Roma perde palla succede una catastrofe, c'è molto campo a disposizione per la transizione avversaria, i difensori centrali spesso si trovano a campo aperto in inferiorità numerica, in sofferenza. Volevo sapere come sta analizzando questo problema, se sta pensando a quale tipo di soluzione, per esempio una difesa 3 potrebbe essere una soluzione a questa situazione? Come ho detto sempre, noi abbiamo sempre lavorato due sistemi e possiamo giocare con la difesa 3 e con la difesa 4, ma devo dire che è quasi lo stesso, la questione della marcatura preventiva non è stato un problema in queste due prime partite, in questa con l'Udinese, sì, ma dobbiamo capire che abbiamo avuto meno un giocatore. E se vediamo la partita, noi iniziamo sempre a 3, facciamo la marcatura preventiva sempre con 3 più 1. Questa partita è diversa, perché abbiamo meno un giocatore, abbiamo rischiato più nella seconda parte, ma come ho detto possiamo giocare in due sistemi. Poi volevo affrontare la questione goal, in questo momento difficile non la stanno aiutando i suoi attaccanti, quelli esterni, perché se non fa goal Dzeko non fa goal nessuno, quelli più vivaci in questo momento sembrano Carles Perez che lo ha sfiorato comunque il goal e Mkhitaryan, le volevo chiedere se nelle gerarchie degli attaccanti laterali questi due giocatori, Carles Perez e Mkhitaryan sono un po' più avanti, per esempio, per le scelte di Napoli. Vediamo domani, penso che è chiaro che Dzeko giocherà domani, non ha giocato le altre partite. Penso che Mkhitaryan è un'opzione forte, vediamo come sta a Carles, penso che ha giocato bene, ha corso molto, ma vediamo come sta fisicamente, perché abbiamo giocato solo due giorni fa, ma sono opzioni. Domanda da parte di Repubblica, senza giri di parole, la squadra ha smesso di giocare dopo le voci sulla finalizzazione del passaggio di proprietà del 30 dicembre, c'è una relazione? No, per me no, nessuna relazione. Altra domanda da parte di Gazzetta dello Sport, crede che il suo bilancio sia in linea con le aspettative iniziali della società? Come avevo parlato prima della partita con Udinese, il bilancio dobbiamo fare fino alla stagione, abbiamo più 9 partite, abbiamo l'Europa League, penso che, come ho detto, non è il momento di fare il bilancio. domanda da parte del tempo. Prima dell'Udinese aveva detto, il futuro non mi interessa, la partita più importante è questa. Poi ha cambiato otto uomini rispetto a Milano, lasciando fuori ad esempio Dzeko e dopo la partita ha spiegato che bisognava pensare anche a Napoli. Ci può spiegare meglio la sua scelta? Io ho cambiato per i giocatori che hanno sempre giocato alla Roma, non ho cambiato i giocatori che mai hanno giocato. E perché io ho fiducia in tutti i giocatori, è per questo che io ho cambiato. E come ho parlato anche dopo la partita, l'allenatore adesso non può pensare solo alla prossima partita. E come ho spiegato, ho pensato anche alla partita con Napoli. Ma ho cambiato perché ho fiducia in tutti i giocatori. Il Corriere dello Sport le chiede, il lavoro degli allenatori prevede momenti in cui si è messi in discussione. Lei si ha già assunto le responsabilità in questo brutto momento. Saprebbe indicare un errore specifico che pensa di aver commesso? Io faccio sempre l'analisi dopo la partita. Quando vinciamo non è tutto bene, quando perdiamo non è ovviamente tutto male. E in questo momento il più importante è trovare soluzioni per il problema che abbiamo avuto durante queste due partite. è questo che io devo fare, trovare soluzioni per migliorare la squadra. Domanda del romanista sulla questione fisica e tattica. È vero che i ragazzi le hanno confessato di sentirsi stanchi e che non è apprezzato il lavoro di Lippi? No, non è vero. Non è vero. E sta pensando a qualche cambio di sistema o magari a soluzioni tipo Mancini a centrocampo? Come ho detto, abbiamo la possibilità sempre di giocare in due sistemi. Vediamo domani. Rete Sport le chiede, visti i risultati attuali si sente in discussione o pensa di essere saldo sulla panchina della Roma? Le manca il supporto della società? Si sente abbandonato? No. Io ho sentito sempre, anche in questo momento, il supporto della società, del Presidente, di tutti i club. Mai ho sentito abbandonato per la società. Stesso argomento, Teleradio Stereo le chiede. Il Presidente Pallotta ha commentato duramente la sconfitta con l'Udinese, ma poco fa ha fatto un tweet in cui le conferma pubblicamente la fiducia. Ha avuto modo di sentirlo personalmente? È normale che quando non vinciamo siamo arrabbiati. Io ero molto arrabbiato dopo la partita, però penso che sia una situazione normale. Centro Suono Sport, una domanda tattica. In queste prime tre giornate la Roma, dopo ovviamente la ripresa della Serie A, con il passare dei minuti si è allungata come posizione media in campo. Una squadra più lunga evidentemente fa anche fatica a coprire il campo. Secondo lei da cosa dipende questo? Io ho parlato dopo della partita con Sampdoria che abbiamo avuto questo problema. La squadra non era molto curta nella partita con Sampdoria, ma penso che in queste due partite non è stato un problema la lunghezza della squadra. Domanda di Roma Radio, in questo momento di difficoltà l'allenatore della Roma cosa si sente di dire ai tifosi che sono delusi e preoccupati per il finale di stagione? Dobbiamo lavorare. Questo non è un momento di pensare che abbiamo fatto tutto. No, dobbiamo lavorare. Io ho sentito sempre il supporto dei tifosi. È normale che dopo queste due partite non sono soddisfatti, come io non sono soddisfatto. Ma quello che dobbiamo fare è giocare per vincere, giocare per vincere, giocare con cattiveria per i nostri tifosi. Domanda di Roma TV, per quanto riguarda la gara di domani sarà un Napoli sicuramente molto diverso. Cambiato allenatore, è una squadra in fiducia nonostante la sconfitta di Bergamo. Che differenze ci sono tra il Napoli di Ancelotti e quello di Gattuso e che partita sarà domani? Come ho detto è una squadra con più fiducia, è una squadra diversa da quella che abbiamo affrontato qui. È una squadra che sta bene, sta giocando bene. Hanno perso questa ultima partita con Atalanta ma mi aspetta una squadra forte con voglia di vincere domani. Grazie. 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 Grazie.